Prepariamo insieme la crema ai funghi. Ingredienti per due persone. 350 g di funghi freschi, una piccola cipolla, uno spicchio d'aglio, 750 ml di brodo vegetale o di pollo, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, prezzemolo fresco, sale e pepe. In una casseruola scaldiamo l'olio di oliva, aggiungiamo la cipolla e l'aglio tritati e cuociamo a fuoco lento per una decina di minuti fino a farli diventare morbidi e trasparenti. Aggiungiamo i funghi e mescoliamo fino a quando questi non si saranno ridotti almeno della metà, poi aggiungiamo il brodo caldo, saliamo e pepiamo. Portare la minestra ad ebollizione e poi abbassare la fiamma, lasciar sobollire per una quindicina di minuti, frullare con il mixer ad immersione ed aggiungere prezzemolo fresco tritato. Se volete una minestra più cremosa si può aggiungere un cucchiaio di panna acida per ogni persona, quindi se avete preparato la dose per due persone dovrete aggiungere due cucchiai di panna acida preparata con qualche goccia di limone.